Eccolo! Eccolo, che la dice lunga, ma la palla messa dentro era veramente un ottimo pallone, un ottimo cross, un ottimo assist, adesso voglio rivedere l'azione bene perché è su lei che ruba palla a metà campo, si sposta sulla destra, fa tutto da solo, è Mancino, allarga sulla destra il pallone per McKennie che la mette dentro di prima benissimo perché anche da lì non può assolutamente sbagliare. Ogni tanto se si marcasse magari, diciamo che era lasciato leggermente solo Ken, proprio un attimo di libertà. Difessore più vicino a 4 metri, lui è sul limite dell'area piccola, complimenti alla marcatura del Monza. Si parlava di Cragni, infatti si è lamentato con i compagni e l'avete lasciato completamente solo. È una marcatura tipo Milani ieri sera. Sì esatto, un po' un po' legno. Sono d'accordissimo con voi ragazzi, marcatura larga, ma la palla che McKennie mette dentro di prima è fortissima e secondo me taglia fuori anche i due centrali anche per quello. Sono abbastanza evidenti anche le cose. Monza, uno pari, pareggiato il Monza su calcio d'angolo, Valotti di testa a anticipare tutta la difesa della Juventus al 24esimo. Il Monza pareggia, terzo gol in Coppa Italia tra l'altro. Perin non può fare nulla, io stavo cercando di ascoltare il tuo discorso molto molto incastrato. Che adesso riprenderemo, intanto cerchiamo di capire le colpe anche della difesa bianconera che si è fatta uccellare su un calcio d'angolo. Anche perché Gatti poco fa era andato fino in fondo per prendere un pallone, qua calcio d'angolo, vediamo la palla che entra benissimo. E' McKennie che se lo marca anche Paredes, su di luce anche Ken che tanto casca male, marcatura errata. Valotti va da solo a colpire un pallone con McKennie che davanti non gli salta e quindi il pallone gli arriva perché McKennie non prende la marcatura. Si perde l'uomo uno a uno, giusto, perché è un eroe del genere, non da Serie A. L'anno scorso il Milan vince lo Scudetto ribaltando il derby con una cattiveria tale in quella partita, che poi si rivede anche negli scontri con la Roma, si vede nello scontro con la Lazio dove si vince l'ultimo minuto. Però c'erano due giocatori che quest'anno non sono mai presenti. Mignan che ha portato 26-27 punti, che è fondamentale, e Ibra che comunque in panchina è una cosa. Averlo comunque a disposizione è un'altra, secondo me, perché Giroud è cotto. L'anno scorso il derby viene pareggiato dopo che in mezzo al campo tanti interessi lamentano di un fallo. Non mi ricordo se è di Tonaio o di Benasser su Sanchez, fallo netto, che porta l'uno a uno. Però quel fallo lì ti fa capire che quella squadra in quel momento era un'unità di intento unica. Cioè c'era un gruppo solido, fatto, finito, pronto ad arrivare all'obiettivo. E tanto è vero che se tu vai a guardare i campionati vinci negli ultimi dieci anni, quello del Mignan l'anno scorso è forse il secondo o il terzo come punteggio di Massimo. Cioè 83 punti. 86. 86. No ma giocavano bene Francesco, giocavano bene. Benissimo, però è stato un po' il campionato del Ciapanò. Quello è il senso. Ragazzi prendiamo, ci parliamo. Ragazzi gli anni precedenti a 86 arrivava, cioè il Napoli di Sarri arrivava a 91. Ma cosa vuol dire? La Roma di Garzia arriva a 96. No, però. Il Milan stesso di Allegri ci vuole un anno arrivare a 96. Però se lo contestualizzi. No, ma se lo contestualizzi e parli dell'ultimo campionato. La prima a 86, le altre 80, 82, 79, 78, era un campionato comunque scasso. È stata quella che ha sbagliato meno e che ha avuto più fame. Occhio al Monza, Fra. Occhio col panico, entra in aria di rigore puntando Rugani, tira per in la para. 72 di gioco, siamo ancora 1-1. Ragazzi, due... Francesco! E' un gol meno di gioco che fa Federico Chiesa perché viene trattenuto sulla sinistra. Parte praticamente da metà campo, punta il difensore. Lo sorpassa, lo tira per 20 metri. Lui non cade mai, continua ad andare, nonostante il difensore lo trattenga con tutte le forze. Entra in aria, punta il difensore sul lato sinistro. Entra in aria di rigore col destro. Salta un altro centrale che gli va addosso e mette la palla a giro. Sul secondo paro, gol meraviglioso. La Juventus non può fare a me o di questo giocatore e soprattutto questo giocatore non può giocare terzino. Perché è una punta o una seconda punta. Come si era visto sia l'anno prima che agli europei. Gol meraviglioso di Federico Chiesa. Meraviglioso! Credo il primo dall'infortunio, vero? Anche se ha fatto due assist. Ha fatto due assist, ma come gol il primo da che è rientrato in campo con la Juventus. Gol veramente... Guarda quanto lo trattene. Strepitoso, strepitoso. Ne punta due, poi tiro a giro un secondo palo con il portiere che neanche si muove. Palo dentro, gran gol. Anche lì, già che l'hai tenuto, finisci il fallo e piglia di giallo. E beh, insomma, scusa. Chiesa. Lo devi mettere in campo e digli, fai quelle robe lì. Non lo devi mettere a rincorrere. No, stavo ragionando sul difensore del Monza. Cioè, nel momento in cui ti ha saltato e decidi di tenergli la maglia, a quel punto tienigliela la maglia. Cioè, no, l'hai fatto, piglia di giallo perché ti scappa al punto e fa gol. Vabbè, comunque. Però, però, se non le fa ste robe chiese... No, 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 ma ci mancherebbe altro. Assolutamente, assolutamente legittimo. Quindi, Antonio, abbiamo ascoltato Pioli e lui è fiducioso, convinto che in qualche modo la quadra la si trovi. Mi veniva da dire, dobbiamo cambiare qualcosina? Più di qualcosa. Un po' più di qualcosina, eh. No, però sulla questione mentale, secondo me, ha ragione. Perché è un Milan proprio bloccato mentalmente. Cioè, commette degli errori che solitamente non ha mai commesso nell'ultimo anno e mezzo, due anni. E su questo ha ragione anche Francesco quando prima diceva che il Milan gran parte dei problemi li ha risolti in passato facendo gruppo. Cioè, abbiamo sempre visto una squadra compatta, una squadra con fame. Una gran squadra. E invece, nelle ultime 3-4 partite, si è letteralmente sciolta la squadra di Stefano Pioli. È lì che dovranno lavorare a Milanello. Tra l'altro, a proposito di Milanello, per la Lazio probabilmente il Milan recupera Krunic. In questo momento potrebbe essere fondamentale. Pioli ha lasciato due giorni liberi alla squadra, perché li ha visti anche cotti mentalmente. E' una chiave anche questa. Settimana scorsa, dopo il Torino, li aveva portati tutti a Milanello. A stavolta invece ha lasciato due giorni liberi alla squadra. Mamma mia, scusate ragazzi. Qua ho visto una cosa che... Io non so se state guardando la parola anche voi. Ma Alexandro fa una cosa che non lo so. Io non credo di vedere... Non ho neanche mai visto l'oratorio quando avevo 12-14 anni. In area di rigore riceve un pallone, ha tutto il tempo per ragionare e senza sapere cosa fare ha tre giocatori. Uno sulla sinistra, uno sulla destra e tutta la squadra davanti. Lui butta la palla a destra e regala il calcio d'angolo al Monza all'81esimo. Ma io mi chiedo perché Allegri continui a far giocare a Alexandro, che è un giocatore che l'anno prossimo... Secondo me perché spera che si rompa e non gioca mai più. Febbraio. Quindi è un altro mesetto. Ragazzi, 25 settembre si è fatto male la prima volta. Guarda che il soleo è un problema grosso. Considera che ieri... 25 settembre e 16 ottobre, siccome il Milan, giustamente, dice che sono due infortuni diversi. C'è il soleo e ci sono i gemelli. Quindi sono due... Il gemello mediale. Quindi prendiamo pure il secondo. Quindi non il 25 settembre ma il 16 ottobre. Ok. Novembre, dicembre, gennaio... Punta il 14 febbraio, sono quattro mesi... Antonio ce lo potrà fare meglio perché... No, no, i quattro mesi sono scaduti ieri. Sì, dico, se tu calcoli da 16 ottobre, che è il secondo, sarebbero quattro... Cioè, anche a ragionare per difetto e non per eccesso, però sono quattro mesi di un infortunio e un polpaccio. Te lo dico perché è il polpaccio che ha distrutto il fine carriera a Chiellini. Cioè, per un portiere soprattutto, avere un infortunio in quella zona del campo, da dove un portiere spinge moltissimo in quella parte del corpo, se tu hai un problema lì, non riesci mai a prenderti neanche dagli altri. Non rivolgimi di nuovo Paolo e nominargli cranio, sportiello... No, io poi metto anche un'altra componente. Però ragazzi, la perita grossa per il Milan. L'ultima cosa è poi... L'ultima cosa è un'altra componente.